buongiorno oggi 25 aprile san marco evangelista ogni anno in questa data si commemora la festa della liberazione quando si ricorda la liberazione d'italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese la festa del 25 aprile conosciuta anche come anniversario della resistenza una festività dedicata anche al valore dei partigiani di ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione del paese oggi anche la giornata mondiale contro la malaria istituita dagli stati membri dell'organizzazione mondiale della sanità durante l'assemblea del 2007 la giornata un'occasione per evidenziare la necessità di investire e sostenere gli impegni politici per il controllo e la prevenzione della malattia